Grazie a tutti. Prova ad andare in segreteria, se non ci sia un corso che siano gli ecologisti anonimi o qualcosa di simile. Quando sono visto. Salve, hai sentito parlare al gruppo degli ecologisti anonimi? Sì, certo. Inizia proprio domani. Questi sono i moduli da compilare. Grazie, li compito subito. Certo. Buongiorno. Buongiorno. Vengo, prende a posto. Vieni. La carta vale il gestino bianco, la gialla vale il gestino giallo e la vale il gestino marrone. Sì, dovete capire. Va nel gestino giallo. Ecco. Bravo Gabriele, hai buttato la carta nel gestino corretto. Grazie. 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 Grazie.